Si rifà il look piazza dell'Unità d'Italia Ispica, il sindaco Pierenzo Muraglie ha infatti proceduto ad affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'architetto Salvatore Guarnieri ed il responsabile unico del procedimento al geometra Gaetano Gennaro per i lavori di ricollocazione di elementi stilistici di arredo della già piazza Regina Margherita, oggi piazza dell'Unità d'Italia. E' stato pertanto avviato l'iter che riporterà in piazza la ringhiera a protezione del monumento ai caduti. Il pupo sostituirà l'attuale lama d'acqua posizionata al centro della fontana e infine i sedili circolari. Il sindaco Muraglie ha dichiarato che i lavori in atto rispondono ad un solenne impegno assunto con la città e con gli spicesi. Secondo il primo cittadino si tratta di un piccolo gesto che ha un alto valore simbolico ed affettivo per l'amministrazione e per la maggioranza degli spicesi. Secondo il primo cittadino si tratta di un piccolo gesto che ha un alto valore simbolico ed affettivo per l'amministrazione e per la maggioranza degli spicesi.